Siamo con Antonio D'Ambrosio, a Termoli per la prima volta è stato presentato un significativo documentario che promuove il Molise, valorizza un regista molisano Giuseppe Forchi e apre un progetto culturale, un evento patrocinato dalla Casa del Libro, dal Circolo della Vela, dall'Associazione Molisana Malati d'Alzheimer e chiaramente dall'Associazione della Famiglia Forchi. Sì, è un documentario eccezionale innanzitutto, come dicevi, che è inedito, è stato presentato per la prima volta l'anno scorso in occasione del Festival del Cinema, ma a Termoli non era mai arrivato. Siamo partiti con questi quattro documentari su Termoli, un video straordinario di bellezza, e poi su Gielsi, per Sant'Anna, per Larino, San Pardo e per Campobasso, la Festa dei Misteri. Quali tratti salienti della figura di Giuseppe Forchi? Beh, è stato un uomo di grande spessore culturale, un appassionato di fotografia, un pittore, un uomo di cultura e aveva scoperto la cinematografia e la cinepresa. Si è legato al mondo del cinema, del dopoguerra e ai grandi artisti del dopoguerra. E quindi legato in qualche maniera a quella corrente cinematografica del neorealismo. e gli si fa onore di questi quattro documentari per adesso, e più quei film che lui ha girato come scenografo e aiuto regista. Un progetto culturale che continua? Continua perché c'è una grande attualità, oltre alla bellezza del bianco e nero, che ci fa riportare nei luoghi, ci fa rivedere le persone, ci fa rivedere come le feste erano organizzate. Io credo che c'è una grande attualità. E' lo studio dei simboli e dei riti che vengono riproposte. E' la distruzione di questi simboli, di questi riti, che sono importanti per la società, che oggi non esistono più. e credo che da lì nasca un disorientamento, uno spavento da parte di generazioni intere. La contemporaneità non ha un contrappeso, un confronto con i simboli e con i riti della civiltà contadina. E credo che questo scombaginamento ci ponga delle riflessioni in questo momento e con questo clima sociale e politico.